Musica Ci divertiamo con questo strumento Che dite? Che è un altro diavoleria, sì Un po', giuntolo Tre, leggero Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E Spingo in avanti Qui Otto Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Poi ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E da qui Salvo Scendo Otto Due Tre Quattro Volete farlo più lungo? Cinque Va bene Fino giù Sei Sette Otto E da qui E da qui mi fermo Giro da una parte Giro dall'altra Otto Due Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Tre Quattro Tre Ti piace Questa Mi è bellissima Qui Facciamo lavorare le braccia Ma anche Mobilizziamo le articolazioni In particolare Con le della spalla La spalla E D'accordo Ora Da qui Una volta in avanti E Su Salvo Qui Qui Salvo E Qui Salvo Salvo Qui Cerca di tenere le braccia dritte Senza piegarle Oh Le piego poco poco Su Qui Dopo un po' pesa E Chiaramente Vabbè Riposiamoci un po' Da qui Twist E twist Riposiamo un salto le spalle Perché Capisco che Gambe divaricate Ginocchia leggermente piegate Un Due Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Vabbè Vabbè Fermo Adovina Di contratti Quattro Tre Due Uno E ancora Qui Twist 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 Ed ora Riprendiamo Scendo E il salto E il salto Due Da casa Con cosa lo possono sostituire Questo attrezzo Adesso sì Dopo non potranno più Un tappetino arrotolato Adesso sì E dopo Non tanto È insostituibile È un buon acquisto Online ci sono anche quelli con i punzioni Che servono per riattivare anche la circolazione Più corti Sì Home Roller E ora Unisco Incrocio Twist Incrocio Twist Vabbè Twist E Twist Non so dove mettermi Ho il muro lì Qui E voi direte Nulla di difficile Vero Adesso Nulla di creativo Adesso E da qui Su Ma su Salgo Giù Salgo Giù Salgo 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 Su E Qui Scendo Salgo Qui Su Qui Però ci dobbiamo scaldare bene per gli altri Quindi iniziamo con le cose semplici E poi Andiamo con le cose più faticose Scendere Quindi Porto Il Palm Roller Alla coscia E gli do una cosciata Cosciata Tutto bene? Sì Ritmo Ed energia La signorina La signorina dava sassidio Al mio Apple Watch Continuava a dire stop Continuava a dire rest E si fermava anche lui Dopo controllo Così Così I got a million reasons To keep holding on Yeah I got all that it takes To win and overcome What I got Is just a feeling But it's so so strong It goes on On and on On and on There's something going on Inside of me I feel it growing stronger Every beat I never just believe In what I see Cause I can feel the energy Energy Forza Ok Come va? La La Fatica Lato Marionetta Qui Lato a lato Go Sentite i glutei? O li sento solo io? Ok Teniamo qui questo Si era già formato prima Sappiatelo Da qui Lo teniamo Che ci aiuta Lato a lato So So Lato Lato Qui Qui Ci aiuta per l'equilibrio Qui Lato Lato So So Lato Lato Ginocchio piegato Salto di lato Lavoro con gli obli Qui Qui E So 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 E Potete anche esagerare Perché tanto Avete l'affare Che viene in equilibrio D'accordo Ancora Questa volta Dietro la schiena Salgo Salgo Precipiti So Qui Così scaldiamo anche loro So E Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto I prossimi 15 minuti Possiamo fare Cose più ardite Che dite? Che ci impegnano di più Lascio E Da qui Sempre spingo Ah no È finita Pensate Abbiamo contato giusto Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Gli ultimi otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E Stop Da qui Scivolo 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 E Mantengo Il Pop Roller Attaccato Le gambe Con le braccia E Salgo Pietro Le spalle Ancora una volta Allungo Più possibile Salgo Ora Il foam roller Lo mettiamo Dietro la schiena Un piede avanti Un piede indietro E Scendo Gambe tese Ne approfittiamo per allungare un po' Scendo Spendo E Cambio Qui Scendo E Salgo Qui D'accordo Da qui Respiro Un salto E Giù Bene Riprendiamo Non troppo lungo Respiro Su le braccina Qui Qui Skip E On Due Tre Quattro Facciamo che pieghiamo le braccia Così Cinque Sei Sette Piego e stendo Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due Uno E Rilasso Un salto Qui Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Sulla braccia Piego E Un Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E ancora Otto Sette Sei Cinque Quattro Tre Due E uno Da qui Un bel giro Qui On Due Mannaggia Cambio parte On E due Fum roller A terra Un piede Sul foam roller Piego E stendo Piego E stendo Piego E su Piego Su Chiaramente è molto Instabile Instabile Piego Basta la parola E qui Scendo Su Scendo Su Giù E su Cambiamo Gambezza Quindi Sestematemi Cercate il giusto Equilibrio On Due Tre Giusto equilibrio Coordinate Coordinate E Scendo So Scendo Qui Le dritte Qui Scendo Bene E Ricambio Da qui Scendo E Co Stacchi Single leg Molto instabile Qui 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 Riuscite? Si Tenetela leggermente piegata Allora Su Su Ed ora Mi giro semplicemente E Squat E Scendo Qui Tingo Leg Squat Come va? Mi raccomando Giù bene E Su bene Giù bene E Su bene Qui E E Molto instabile vero? Qui E Su Ok Cambiamo Adesso possiamo cambiare Da qui Vado Scendo Scendo E Salgo Stacco A Gamba Tesa O Leggermente piegata Su Su Scendo E Su Scendo E Su Salgo Salgo Su Qui Ok Ora Ci giriamo E andiamo su Io mi devo girare di qui Ok E Vado On Due Tre Cerco di stare Il più dritta possibile con la schiena Quindi non mi Non mi butto in avanti eh Scendo E salgo Scendo Su Scendo Qui Su Scendo Scendo Qui Su Prendiamo con Confidenza Ok Ok Ed ora Lo riprendiamo Dietro la schiena Qui Da qui Scendo Eagle E Su Concentratevi Punto davanti a voi Qui Su Se si perde la concentrazione è un disastro Ok Ok Questo sarebbe un esercizio per la propria eccezione E Però non posso parlare Non posso parlare Non posso fare cose assieme Qui Qui Se 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 Si Si Se 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 ok ok come va su la su qui e ho su piego e scendo su scendo qui su obliqui addominali ma intanto mobilitiamo anche la colonna qui e ancora uno e lo facciamo a terra da qui e passiamo da spiel up blank un l'un l'un un 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 Come va? Va bene anche con le ginocchia Ok Ed ora Da qui Allungo Torno Allungo Torno E allungo Torno Ancora una volta Allungo E torno Ce la facciamo farlo ancora una volta? Cosa dite? Se non ce la fate Potete anche tenere così Quindi da così Accorcio Allungo E accorcio D'accordo? Invece chi Vuole farlo Con i piedini su E' E' Viene Due Tre Tre Quattro Cinque 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 Sei Sette Otto E Stop Dopo Tornata dalla tua nonna Salvo Salvo E Invece Giù Allora Allora se volete Potete Potete Togliere Le scarpe Perchè 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 adesso Torno Allungo Allungo Torno Allungo Allungo Torno Allungo Allungo Ma torno alzandomi Domiene Con il bacino Uno Su Due Su Tre Su Quattro Su Cinque Su Sei Su Sette Su Otto Su Prendiamo Il nostro Da qui Scendo E salgo Un Su Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Ed Ora Scendo Squis E Su Scendo Squis E Su Scendo Squis 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 Scendo Squis Squis Scendo Squis 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 Scendo Squis descrizci Squis 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 In Passo adesso! Perché avete fretta? Dietro! Da qui! Mi stendo, anzi mi alzo, su e giù. Su, giù, su, giù. Salgo, tutte le volte scendo. Su, giù, su, giù, su, giù. Su, giù, su, giù. Sentite i trici di bruciare? Ma li sento solo io! Ok, da qui. Appoggio la schiena. Se volete vi potete tenere le gambe, vedete voi? Anche solo appoggiare le mani, le ginocchia. Trema tutto! Fate in modo che non scappi. Respirate. Un minuto passa. Prima o poi. Prima o poi, forse. Ormai è tutto. Ok. Mi giro. Qui. Mettiamo il nostro foam roller sui piedi. Da qui. e scendo su e giù. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ancora. otto, sette, sei, cinque, quattro. Sentite i femorali? Tre. È da crampo, eh? Due, uno. Purtroppo è già finito. Mi giro. Qui. Push up. Scendo. E uno. Piano piano, eh? Cercate la stabilità. su. Potete tranquillamente appoggiare il petto e poi spingere, ma è peggio. E' meglio fermarsi prima. tutto. Tutto ha un limite. E su. Scendo. E salgo. Scendo. E ritorno con i piedi su foam roller. questa volta più vicini. Quindi da qui. Salgo. E scendo. Su. Giù. Due. Tre. Quattro. Cinque. due. Sei. Sapete che serve anche per i massaggi questo? però oggi non massaggiamo. Niente. non massaggiamo. Magari prossimamente massaggieremo. Non stasera. ok. E ritorniamo. Qui. Da qui. Cobra. Salgo. Appoggio. Giù. Cobra. salgo. Appoggio. Giu. Appoggio. Giu. Cobra. Salgo. Appoggio, giù Cobra Salgo Appoggio Cobra Salgo Appoggio E giù Come va? Allora Riusciamo Da qui Porto Aspettate Porto E giù Salgo Arrotolo Qui E giù Salgo Arrotolo Qui E giù Salgo Arrotolo Qui E' molto bello è l'arrotolo Solo l'arrotolo è bello Facciamo solo Arrotolo e arrotolo Allora Un Qui Due Tanto i pettorali Lo abbiamo già fatti Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Rimango Un salto qui E poi Ritorno Qui Questa volta Gambe tene Da qui Stacco i glutei da terra Facendo perno Facendo perno Sul Pop roller Su E giù Salgo Scendo Salgo Giù Salgo Giù Salgo Giù Salgo Salgo Ed ora Salgo E salgo 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 Su Su Ponte Salgo Su Rotolo e srotolo Anche questo è molto divertente Vi piace? Su E Salgo 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 Chiaramente stiamo lavorando Con glutei E femorali Può essere che domani Abbiate tutto Su E Qui Salgo D'accordo E ritorniamo In appoggio Ce la facciamo? Da qui Un Un Due Due Tre Tre Quattro Quattro Cinque Cinque Sei Sei Sette Sette Otto Otto E allungo E allungo Riprendo Qui On On Due Due Tre Tre Quattro Quattro Cinque Cinque Sei Sei Sette Sette E allungo E allungo Qui Rilasso 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 la schiena Rilasso Metto La posizione Di partenza Mi allungo in avanti E Ritorno Allungo Ritorno Allungo Ritorno Allungo Allungo E Ritorno L'ultima Volta D'accordo Bene Sediamo Passiamo Agli Atominali Gli ultimi Quindici Minuti Ce la Facciamo Allora Da qui Semplice Semplice Facciamo finta di remare On Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Sette Otto Ancora Otto Sette Tre Cinque Quattro Tre Due Uno E E E andiamo E andiamo Lato 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 Un Qui Due Qui Tre Quattro Cinque 6 7 8 e ancora normali 1 2 3 4 5 6 7 8 da qui destra e sinistra 1 2 3 4 5 6 7 8 e stop ci mettiamo a terra schiena a terra mettiamo il foam roller sulle gambe da qui srotolo e scendo pian piano srotolo e scendo pian piano 2 e scendo pian piano 3 e scendo pian piano 4 e scendo 5 e scendo 6 e scendo e scendo 7 e scendo 8 e giù ce la facciamo? dobbiamo aspettare la campanella quindi dobbiamo fare ancora un po' buttate fuori l'aria quando salite e e e ok foam roller dietro le gambine qui ce la facciamo ma scendo salgo crunch scendo salgo crunch scendo salgo crunch scendo salgo crunch 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 ora dritto scendo e salgo scendo 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 mi raccomando schiena è ternissima scendo su sentite 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 qui salgo 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 chissà se finisce un minuto meno male ora da qui salgo e tocco qui e e su e e tocco 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 qui salgo qui salgo qui salgo qui salgo qui molto faticoso fa niente so qui e non mi fermo so vi siete fermate? che non sento il tuck ok rilasso salto portando sul glutei tutto ад inverso os abruzvi rulli germinal glutei diabete mut ciao grazie Hou8 Glutei, crunch, glutei, crunch, glutei, sub, glutei, sub, glutei, crunch, glutei. Ok, ora proviamo a fare, invece che il passo palla, passo, ce lo facciamo o no? Lo teniamo lungo, se lo teniamo lungo ce lo facciamo, sta stretta, qui, e passo, con quello piccolo si riesce anche orizzontale, anche qui magari ci saremmo riusciti, io no, perché sono, ho il muro, ho il muro. Ok, ed ora lo mettiamo qua e lo usiamo un po' per i massaggi, ok? Ok, gambe lunghe, semplicemente, mi sollevo un po', ce la faccio, sollevatevi un po'. Femorali, femorali, è gratis. E allora ci giriamo, facciamo la stessa cosa per i quadricipiti, ok? Finita qui? E allora ci giriamo, facciamo la stessa cosa per i quadricipiti. poi potete esagerare. E' divertentissimo, peccato che non ci sono gli spuntoni. Ok. E lo mettiamo anche dietro la schiena, ce la facciamo? Con i capelli raccolti, possibilmente, perché sennò è un disastro. Scusate. Se no... Ok. Piano piano, eh. Rilassatevi. Ok. Ora da qui appoggio piano piano. E su. Appoggio piano piano. E su. Appoggio piano piano. Il phone roller. Piano 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 piano. Scusatevi. Rilassatevi. Siete comodi? Come no? Non guardereste così tutto un team? Ok, e su. Eh? Ci geriamo e allunghiamo. Allungo lungo. Mi appoggio sul foam roller, salgo e spingo. Allungo lungo. Piego. Qui. Trotolo la colonna pian pianino. Giro giro. Le spalle. Su. E giù. Ancora una volta. Su. E fuori tutto giù. Bravissime! Grazie. 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 Grazie.